L'Italia rallenta, cresce meno degli altri paesi europei, sconta le troppe tasse, la burocrazia, l'illegalità diffusa, la carenza di infrastrutture e di capitale umano. Perdiamo 180 miliardi di PIL all'anno. Meno industria e più terziario, passato dal 37 al 40% del PIL. Questa è la foto degli ultimi 20 anni della nostra economia. Commercio, turismo e servizi hanno creato negli ultimi tre anni 740 mila occupati.